Allora, io ho fatto liceo scientifico a Bergamo e mi piaceva tantissimo la letteratura, devo dire tutt'oggi e forse la cosa che mi piace più fare è leggere libri, però vedevo che, non lo so, avevo un po' paura di non riuscire a creare qualcosa, la mia vocazione era creare qualcosa, sarebbe potuto anche essere una fabbrica di terracotta, un'industria di vestiti e lì ho avuto l'intuizione ai laboratori di fisica al liceo, mi piacevano gli esperimenti perché c'era un'idea e c'era la realizzazione, mi piaceva questa cosa, a scuola ero brava in matematica e fisica, quindi pensavo ok, devo studiare ma posso farcela e sono andata a fare fisica ed è stata durissima l'università per me, nel senso che studiavo tantissimo e abitavo a Bergamo, andavo a Milano così e poi dopo l'università ho avuto un momento in cui volevo smettere, però poi ho avuto l'occasione di fare il dottorato di ricerca a Monaco di Baviera e lì sono andata semplicemente perché volevo andare all'estero e imparare il tedesco, che avevo fatto al liceo ma che volevo rispolverare, quindi diciamo che non è che avessi proprio delle aspettative grandiose e poi lì ho fatto un dottorato molto tecnico perché ho programmato molto e ho costruito rivelatori insieme ad altre persone, ho sviluppato dei tooling per il rivelatore, quindi diciamo non è che pubblicassi in riviste di eccellenza, anzi c'è un lavoro molto duro e lì mi sono fatta le ossa, secondo me, che secondo me è una delle cose fondamentali per fare qualsiasi cosa buona nella vita, di sviluppare questa resilienza, no? E poi ho avuto una grande occasione nel 2007 perché ho preso un grant, credo un po' per fortuna, cioè ho avuto fortuna se devo essere sincera perché nel 2007, nel 2008 c'è stata la recessione economica, però la Germania ha deciso di investire un sacco di soldi nella ricerca, un po' in controcorrente, quindi c'erano tante opportunità, io ho preso uno di questi grant e poi ne ho preso un altro e da lì ho cominciato ad avere un gruppo di ricerca mio e allora devo dire la verità è sempre stata molto dura, un sacco di lavoro, tantissime soddisfazioni, soprattutto con i ragazzi e delle cose che abbiamo capito, cioè i progetti cominciano in una maniera, poi vanno in una maniera completamente diversa, in genere meglio, però è un lavoro anche spacca ossa, cioè dove bisogna fare tanti sacrifici e quindi dove bisogna avere una grande passione perché altrimenti uno si demodalizza velocemente e io ho avuto fortuna, ecco, in tutti i sensi credo, ho trovato un posto adatto al mio carattere, a quello che volevo fare e poi in Germania ho avuto la fortuna che ho avuto la base, diciamo la preparazione ottima secondo me è in Italia che è eccellente, io vedo anche gli studenti adesso che vengono dall'Italia, cioè sono veramente spesso una marcia avanti a tutti gli altri, però poi sono andata in Germania dove ci sono i fondi per fare ricerche sperimentali soprattutto importanti perché i fondi sono facili da ottenere e quindi una persona ha la libertà di costruire gruppi grandi, quindi sono stata molto fortunata secondo me in questa combinazione di eccellenza, eccellenza italiana, l'università italiana e poi in Baviera l'eccellenza dell'atumo. Ho sentito recentemente l'intervista alla premio Nobel nella medicina che diceva che, insomma, se ho capito bene la sua carriera è stata super difficile, contestata, contrastata e lei ha visto tutte queste difficoltà come un vantaggio. Secondo me una cosa fondamentale per aiutare, diciamo, le minoranze che possono essere di genere o nazionali, cioè ci sono tante minoranze, non sono femminili, ad accedere alla scienza e a portare la diversità, cioè a portare un modo nuovo di vedere le cose che è essenziale per andare avanti è che far capire alle persone giovani che tutto deve, che la chiave che loro hanno nelle loro mani è di cercare di interpretare tutto, di girare tutto a loro vantaggio, nel senso che alla fine il sistema, il nostro sistema è limitato, il nostro sistema è governato dai maschi bianchi eterosessuali, questo lo sappiamo e purtroppo non è una cosa che si può cambiare con violenza o cambiare nel mondo delle idee. L'unica cosa con cui si può cambiare è se rimaniamo, cioè se noi minoranze restiamo nel sistema, viviamo nel sistema e cerchiamo di fare la nostra parte. Quindi io personalmente sono militante nel cercare di tirare fuori il meglio del talento delle persone che lavorano per me, siano esse, non c'è differenza, non mi interessa. Il nostro gruppo è un gruppo molto internazionale, anche molto diverso da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'orientamento sessuale, dal punto di vista del genere, perché è bello in realtà secondo me avere persone che sono completamente diverse, lo rende un gruppo fantastico. Però alla fine ci vuole soprattutto consapevolezza nelle persone giovani che il posto preso per la quota è raramente una buona idea per la persona in primis, perché uno si porta dietro una stigmata molto molto difficile da togliere, quindi alla fine è sempre meglio usare la chiave dell'eccellenza e voler fare il 200%. Io sono positiva nel pensare che le ragazze o anche altre minoranze siano interessate alla fisica, perché lo vedo quando faccio un talk, quando faccio lezione, lo vedo nei numeri che stanno cambiando, ci sono tante ragazze interessate alla fisica. Il mio lavoro è di motivarle, però anche di essere severa e di non avvantaggiare chi non merita, perché altrimenti il processo non è sano, cioè non è bene. Io però devo dire la verità che sono molto speranzosa, perché vedo che le generazioni moderne sono molto più intelligenti di noi, si pongono un sacco di problemi sul rispetto reciproco, sulla diversity in tutti i sensi intendo, anche la diversità di pensiero, ci sono dei programmi di sinergia tra vari orientamenti scientifici, quindi io vedo, sono molto positiva per il futuro e voglio fare la mia parte. Se prendi un'istituzione come l'FBK, dove vengono fatti degli sviluppi importantissimi per i sensori, questo ha delle implicazioni anche per le applicazioni commerciali, magari non di corto raggio sempre, però uno deve sempre pensare molto avanti. Io penso per esempio a alcuni rivelatori di silicio che prima venivano fatti, sono in fondazioni tipo l'FBK, adesso vengono fatte da sponderi, sponderi, cioè da compagnie che costruiscono metri quadrati di silici per i rivelatori. Quindi è chiaro che siccome nella fisica nucleare e anche nella fisica delle particelle, chiaramente, siamo sempre alle frontiere della tecnologia, questo ha un impatto sulla società enorme. Uno fa sempre l'esempio dei circuiti, dei telefonini, che se non ci fossero i rivelatori di particelle, non avrebbe neanche mai pensato a fare una cosa che poi tutti usiamo. Quindi c'è un'applicazione tecnologica molto diretta. Poi c'è il fatto che la fisica nucleare e comunque il fatto di avere gli studenti nel gruppo che imparano diverse skills, poi si riflette in studenti preparati, abituati a soffrire, bravi a programmare, bravi nell'elettronica, capaci di pensare velocemente, capaci di presentare in lingua straniera, capaci di lavorare in un gruppo internazionale. Questo è solo di beneficio per tutta la società. Noi siamo uomini, non siamo cose, cioè questa cosa ideale di voler conoscere come il nostro universo funziona, non di solo pane vive l'uomo, ma diciamo abbiamo bisogno anche di guardare il cielo stellato sopra di noi e di sognare non solamente in maniera non constrained, ma alla fine di porci delle domande fondamentali. Credo che è una cosa innata e necessaria dal punto di vista spirituale o dal punto di vista della sete di conoscenza. Io a questo credo molto. Magari non interessa a tutti, però penso che ci vogliono delle persone che portano avanti anche questi sogni per tutti gli altri. Gli antinuclei per me sono importanti come connessione con l'astrofisica, perché chiaramente ci sono vari esperimenti che cercano di vedere possibili assimetrie tra materia e antimateria che io non faccio. Per noi l'interesse è di usare il laboratorio che abbiamo alle LHC che produce antinuclei ed antinuclei nella stessa misura, quindi è una specie di fabbrica di antinuclei per misurare tutte le proprietà che sono la proprietà di produrli, la proprietà di annichilirli ed eccetera, basati sui modelli nucleari, per poi usare queste informazioni per l'astrofisica, perché alla fine tutti quelli che cercano per esempio materia oscura che potrebbe convertirsi in antimateria sono per lo più persone che non sono esperti di fisica nucleare, quindi sono esperti di astrofisica, di modelli di astrofisica, sono esperti nel costruire macchine nello spazio, però secondo me è molto importante unire le comunità, quindi l'idea del progetto su cui poi si basa il talk che ho fatto oggi, qua per l'anniversario dell'Eciti Sara, si brava proprio su questa idea di usare tutto quello che abbiamo, quindi unire la comunità della fisica nucleare con la comunità dell'astrofisica. E questo praticamente è l'intento degli studi che abbiamo fatto e che abbiamo pubblicato nel 2023 a marzo su Nature Physics, che è stato uno studio collaborativo. Grazie. 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 Grazie.